A questo punto della serata il nostro direttore artistico, nonché i nostri maestri, hanno pensato di regalarvi un momento tutto partenopeo, quindi dedicato proprio alla nostra terra fatta di sole e musica, con Vincenzo Zoppio al pianoforte e Vincenzo Carbone al sassofono, per voi o solo mio? Vincenzo Zoppio Vincenzo Zoppio Vincenzo Zoppio Vincenzo Zoppio Vincenzo Zoppio Vincenzo Zoppio Vincenzo Zoppio